Ben ritrovati, ben ritrovati qui su Milanello, la casa del Milan e dei milanisti su YouTube se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi va per non perdere nulla sul mondo del Milan iscrivetevi qui sulla banderina rossonera e attivate anche la campanella un bel like per questa grande squadra, per questa grande e bella realtà rossonera che ci sta facendo vivere emozioni, che non vivevamo obiettivamente da tanto tempo e che ci fa vedere davanti all'orizzonte ancora più serenità e speriamo anche successi davvero una bella sosta questa del nostro campionato perché ci ricarichiamo le pile, recuperiamo i giocatori e poi appunto andiamo a vederci la classifica e anche se c'è chi ha fatto meglio di noi il peso specifico della nostra classifica e dei nostri punti è straordinario avendo affrontato appunto Juve, Lazio e l'Atalanta appunto quindi benissimo così ragazzi continuiamo a cavalcare questo sogno sperando appunto poi di festeggiare a maggio qualcosa di importante ora in questo video parliamo del presente ma anche del futuro e di gennaio perché in tutto questo c'è anche la sessione di gennaio di mercato che spesso viene definita di riparazione ma che per il Milan negli ultimi anni definirei di integrazione tra poco ovviamente andiamo sul tema di questo video partirei però da una premessa il titolo, non ho ancora fatto la copertina del video quindi non so se sceglierò spettacolo, mamma mia, grandissimi, straordinario sicuramente un gran bel titolo con Maldini, Massara su tutti e vi spiego subito perché abbiamo affrontato un'estate che ci ha portato giocatori che ci ha portato però perplessità perché sai quello che lasci, non sai quello che trovi speri che il nuovo possa essere all'altezza di quello che c'era prima ma non ne hai la certezza abbiamo preso giocatori alla fine forse ci aspettavamo qualcosa di diverso ma in tutto questo dopo 7 partite di campionato e 2 Champions League si può tirare una riga e inizierà a fare un po' un bilancio e notiamo qualcosa di straordinario partiamo da... ovviamente il focus è su Maldini e Massara la parte sportiva con Moncada ovviamente ma prevalentemente in prima fila c'è Paolo Maldini con Ricky Massara dal discorso portiere partirei una operazione straordinaria la prima operazione straordinaria che vorrei sottolineare è quella fatta per quanto riguarda la porta c'è Donnarumma che è il portiere giovanissimo del Milan perderlo potrebbe rappresentare uno smacco a livello di immagine il Milan però fisso un paletto la nostra offerta arriva a 8 milioni oltre non è giusto andare condivisibile? sì, rischioso, assolutamente sì il Milan fa la scelta giusta non solo fa la scelta giusta va a prendere un portiere Magic Mike Vignan che si dimostra a oggi il miglior portiere del campionato pagato poco rispetto al valore 13 milioni di euro sono poco rispetto al valore di questo giocatore che obiettivamente ha impressionato tutti per leadership, per qualità tra i pali, per qualità anche con i piedi un portiere completo che ha fatto la differenza anche contro l'Atalanta con tre parate importanti in un momento di sofferenza ha tenuto la squadra sul pezzo e sul risultato dell'1-0 ora, non era da tutti, il Milan lo ha fatto in maniera anche coraggiosa il coraggio ha pagato operazione straordinaria ma potrebbe non essere questa l'operazione più straordinaria ci spostiamo magari a la davanti la davanti il Milan riceve delle offerte per Leao Leao crea una stagione che inizia bene e poi non completa bene Leao che per molti secondo me ingiustamente viene paragonato a Niang però sembra un giocatore che come atteggiamento mentale era un po' il parere anche di Boban fatica a essere concentrato e quindi a diventare grande giocatore no, lo confermiamo rifiutiamo le offerte lo teniamo qui questo deve essere il suo anno a oggi Leao ha fatto vedere cose straordinarie altra scelta clamorosamente azzeccata non è la più importante probabilmente perché ci arriviamo anche ad altre non rinnova Cialanoglu non rinnova Cialanoglu tiene il punto per mesi per noi questa è la cifra alla fine il giocatore va via oltretutto nella seconda squadra di Milano i rivali che si leccano le dita ci sbandierano questo colpo in faccia e festeggiano quasi avessero vinto chissà cosa però poi il cavallo vincente lo si vede al traguardo qui non siamo ancora al traguardo ma siamo a un percorso che inizia a essere importante il campione da analizzare è considerevole non rinnoviamo Cialanoglu che oggi viene criticato dagli interisti e che vorrebbero criticarlo ancora di più ma non lo fanno perché altrimenti ci darebbero più soddisfazione ancora e Milano decide di puntare su Diaz non prende neanche il trequartista il nostro trequartista è Diaz e gli diamo il 10 Brahim a parte a Bergamo ha fatto partite importanti da trequartista puro qualitativo punta sempre l'uomo lo salta fa assist e fa anche e soprattutto gol scelta azzeccatissima anche qui c'è la spunta verde poi non è finita qui e poi voglio capire qual è secondo voi l'operazione più più importante ragazzi va detto prendiamo Brahim Diaz l'anno scorso riusciamo a rinnovare il prestito per due anni praticamente gratis abbiamo le gesta di Brahim Diaz il numero 10 a livello sportivo straordinario a livello economico finanziario ancora più che straordinario anche qui Brahim Diaz aveva fatto intravedere cose importanti nella parte finale però sai in una stagione dovremmo vederla la stagione dovremmo viverla ma questo in campionato ha già fatto quasi gli sessi gol del precedente trequartista anche qui operazione non azzeccata di più poi un'altra operazione Tonali Tonali Sandrino Tonali lo riscattiamo ma lo riscattiamo quasi a metà prezzo aspettiamo teniamo il punto alla fine otteniamo uno sconto straordinario non spegniamo 35 spegniamo molto meno e guardate poi il giocatore che il giocatore diventa un giocatore straordinario che oggi ho visto anche ieri oggi ieri qualche commento molti lo definiscono il giocatore italiano più completo a oggi devo dire che l'esplosione di Tonali sapendo di averlo pagato molto meno rispetto al valore inizialmente stabilito è un'altra operazione clamorosa io sinceramente non so scegliere quale sia tra queste la genialat della nostra dirigenza so solo dire che bisogna dare a Cesare qualche di Cesare o a Paolo qualche di Paolo e devo dire che con questa dirigenza che si sta muovendo così non bisogna essere tranquilli bisogna essere molto tranquilli e molto fiduciosi e speranzosi anche sul futuro e poi un'altra cosa che dovremmo scoprire è Messias che è entrato a Bergamo secondo me ha fatto bene anche se qualcuno gli ha dato insufficienza non capisco perché Messias magari tra alla prossima pausa di campionato finirà nella categoria delle operazioni straordinarie lo spero lo spero tanto e tifiamo tutti per lui e non è finita non è finita perché c'è il mercato di gennaio il mercato di gennaio che l'anno scorso ci ha regalato Tomori l'anno prima ci ha regalato Salemakes è un mercato di riparazione di fronte al quale questa dirigenza è sempre vigile inserisce i giovani ora vediamo che cosa succede ovviamente da qui a fine anno con il nostro centrocampo però un altro giocatore che potrebbe finire nella categoria delle operazioni straordinarie è Adli il poeta maledetto così come lo chiamo e lo chiamerò perché l'ipotesi di Adli a gennaio non è assolutamente da schertare Milano ovviamente è vigile su diversi profili in questa pausa per le nazionali ne parleremo del mercato in entrata ma io dico quello che è stato fatto è stato straordinario se tanto mi da tanto quello che verrà fatto speriamo possa essere altrettanto straordinario attenzione ad Adli attenzione al mercato di gennaio con il Milan che è sempre vigile e vuole andare a migliorare ulteriormente questa rosa offrire a Pioli ulteriori alternative inserire giocatori che poi possano scrivere la storia del Milan quest'anno oppure con un po' più di tranquillità nei prossimi anni io ragazzi do il mio applauso faccio il mio applauso a questa dirigenza ripeto voglio sentire da parte vostra l'operazione migliore una dovete dirmene una tra quelle che vi ho elencato c'è l'imbarazzo della scelta scatenatevi vi devo dire anche la mia si fa fatica si fa fatica è una non lo so non lo so non lo so sinceramente non riesco a scegliere ragazzi non riesco a scegliere quindi venitemi in soccorso ditemi secondo voi qual è l'operazione più clamorosa di questa dirigenza fatta quest'estate ce ne sono diverse sto guardando mi ero segnati i punti sono indeciso tra il tema portiere e Sandrino Nostrotonari ma anche Ebrahim ragazzi c'è l'imbarazzo della scelta iscrivetevi qui lasciate un bel like forza mina oggi più che mai domani ancora di più bravi 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 ragazzi ci daranno ulteriori grandi soddisfazioni a prestissimo a dopo ciao ciao